E qui con noi questa sera, Mr. Paolo Belli! Non lo so se è un bellissimo spettacolo, però sicuramente mi fa stare sereno perché poi la risposta del pubblico è quella che io cerco, cioè di vedere la gente felice e contenta di aver speso bene i soldi e il proprio tempo. Aver regalato due ore di sorriso mi riempie d'orgoglio anche come uomo, non solo come artista. È uno spettacolo vero, è proprio la mia vita, quindi è anche facile poi raccontarla. Sono molto contenta. Guarda, questi eventi per noi sono fondamentali perché è ben vero che sono i personaggi della televisione e quindi quelli che sono maggiormente fruibili da un pubblico che guarda la televisione. Però per noi è un traino anche per tutti gli altri spettacoli. Ascolta le stigge, resta riesce nel cuore, per scrivere le cose. Tutti a noi pensi, potersi questo sui e sentarsi come me. Ascolta le stigge, resta riesce nel cuore, per scrivere le cose. Grazie 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 Grazie